A voi tutti ben ritrovati da Giuseppe Davetis, cari amici di Meteo Giuliacci. Una serie di perturbazioni stanno attraversando a fasi alterne la penisola italiana, continueranno altre perturbazioni da attraversare la penisola italiana e ci sarà anche un afflusso nei prossimi giorni di aria via via sempre più fredda. Mercoledì cosa accadrà? Avremo a tratti dei rovesci di pioggia e dei temporali localmente anche di forte intensità, sulle regioni centro e meridionali, si accaniranno soprattutto al sud, dove non escludiamo fenomeni anche intensi, avremo dei rovesci di pioggia anche sulla Sardegna più occidentale, sulla Sicilia dei rovesci di pioggia e dei temporali e soprattutto sul nord-est. Sul nord-ovest tenderà velocemente a migliorare, tra l'altro avanzeranno delle aperture del cielo. Quindi attenzione, in molte regioni avremo nuvole, piogge e anche qualche temporale, come detto, prudenza al centro e al sud perché lì ci potranno essere dei fenomeni anche intensi. Per il momento è tutto, arrivederci.